Eccoci, ciao a tutti, parco del Grattacielo che ha un nome non me lo ricordo mai, è comunque un bellissimo posto, oggi comunque sarà credo sempre lavoro quindi senza parte spiegata, facciamo un riscaldamento di 18 e probabilmente vi faccio un piccolo ripasso degli animali. Ok, indicazioni per domani, vi aspetto tutti, portate con voi pochissime cose, entusiasmo, voglia di stare insieme e un sacco di amici così si iscrivono e io divento ricco, mi compro il Porsche e parto per le mattine, non succederà mai. Quello dei tanti amici comunque sì perché facciamo festa, piccoli dettagli tecnici per chi fa la forma, per chi si mette in discussione facendo tango o dance, lasciate perdere la tecnica, non ci interessa, divertitevi, divertitevi, divertitevi. E' un momento per stare insieme e vedete che durante l'anno non ce ne sono tantissimi quindi più che altro davvero è un momento dove ci confrontiamo, stiamo insieme, brindiamo eccetera eccetera. Appunto questo è l'obiettivo principale e ovviamente noi dal canto nostro movimentalmente cerchiamo di lanciare il centro quindi abbiamo bisogno di visibilità e su questo ci potete aiutare anche voi. Bene, direi di partire, altro dettaglio, chi viene domani avrà dei talloncini dentro dove ci saranno gli orari nuovi di movimentalmente e anche una sorta di omaggio per quanto riguarda il centro benessere. Prendete la busta, c'è una bustina per tutti, chi ha la maglietta avrà la busta con la maglietta, chi non ha la maglietta avrà la busta e basta. Prendetela perché c'è, non so se è uno sconto sul massaggio, una manicure, non lo so, è una cosa che fanno quelli del centro benessere che vi danno un omaggio per lanciare, rilanciare anche loro il centro e prendete tutti. Ok? Bene, partiti, riscaldamento con Eliana, via! Ora, sto facendo la busta, si non so, è una sconto. Ok? 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 Grazie a tutti. 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 e... a tutti. 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 bene. e... a tutti. e... è l'unico. e... 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 qui. nel bosco.